Grazie, grazie Presidente. Allora, una precisazione rispetto alla discussione in Commissione, era presente la Ragioneria Generale che trattandosi di un fatto meramente tecnico relativo al rendiconto, ha illustrato quali sono state le motivazioni ampiamente in Commissione per cui siamo stati, diciamo, costretti a questo ulteriore passo. No, diciamo che siamo in dichiarazione di voto favorevole o contraria sull'istanza. Sto spiegando perché siamo favorevoli. Essendo stato, seppur diciamo, un provvedimento con carattere chiaramente di urgenza, comunque convocata alla Commissione nei tempi, comunque ampiamente discusso in Commissione e spiegate quali sono le motivazioni, siamo favorevoli proprio per il fatto che questo provvedimento, qualora non fosse approvato, introdurrebbe una serie di sanzioni accessorie che pur, diciamo, definite come sanzioni provvisorie, quindi che decadrebbero al momento della trasmissione delle correzioni necessarie, consigliano di approvarlo rapidamente proprio per evitare gli effetti di queste sanzioni che sono il blocco delle sanzioni e eventualmente l'accertamento di fondi di trasferimenti dallo Stato. Grazie.